L'indagine è andata avanti da dicembre 2020 a marzo 2021 e ha consentito di individuare il gruppo criminale composto da cinque elementi autori di cinque rapine violente. Le rapine, due a Gravine di Catania e a Masca Lucia, due nel capologo Etneo, sono state commesse ai danni di un noto supermercato e una tentata in una farmacia. Hanno fruttato agli indagati nel giro di pochi giorni la cifra di oltre 5.500 euro. Le modalità con cui sono stati effettuati gli assalti avevano creato allarme sociali alla luce dell'estrema violenza utilizzata dagli indagati, come nel caso di numerose ferite da taglio procurata al proprietario di una delle tappaccherie prese d'assalto. Gli investigatori hanno così analizzato svariate ore di filmati acquisiti dai sistemi di sorveglianza principalmente nei diversi percorsi di fuga utilizzati dai criminali, grazie alle quali si è riusciti a risalire ai veicoli utilizzati e ai personaggi che le avevano noleggiati e da lì a comparare le foto pubblicate dai sospettati sui loro profili social con i fotogrammi estrapolati dalle riprese. Una volta scoperti i tre destinatari della misura cautelare sono stati denunciati e rinchiusi in carcere.